Al nostro microfono l'ingegner Vincenzo Palano, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara. Ingegnere, partendo proprio dai fatti di cronaca che si sono verificati in questi ultimi giorni, abbiamo visto come alcuni anziani sono deciduti proprio per bruciare delle sterpaglie nei loro campi. Sono episodi frequenti? No, non sono episodi molto frequenti, anche perché all'aperto è abbastanza facile che nel momento in cui si vede che un fuoco può dare dei problemi, ci si può allontanare facilmente. Quindi evidentemente devo ritenere che negli episodi che lei stava descrivendo gli anziani avranno tentato di spegnere il fuoco perché hanno capito che il fuoco stava raggiungendo dimensioni che non si potevano più controllare e quindi saranno stati intossicati dai fumi della combustione. Il vento può rappresentare un elemento di pericolosità? Certamente è uno degli elementi più pericolosi il vento, perché potremmo anche realizzare una combustione in una situazione inizialmente tranquilla, la folata di vento ci potrebbe portare le faville anche a distanze ragguardevoli di 20, 30 metri, 40 metri e quindi portare l'innesco anche a materiali, a boschi o a sterpaglie lontane dal luogo in cui si è iniziata la combustione. Ingegnere, la tecnologia ci viene incontro per organizzare meglio gli interventi. Abbiamo visto come l'esistenza di una app può segnalare a qualsiasi cittadino se i vigili fuoco sono stati allertati o meno sulla presenza di un incendio. Certo, abbiamo un'applicazione che si chiama NotFile che tutti quanti possono installare sui propri cellulari che ci dà la possibilità al cittadino di verificare se per determinate situazioni di emergenza noi siamo stati o meno informati. Questo anche per fare in maniera che i centralini non siano subissati da telefonate nel momento in cui giustamente il cittadino rileva una situazione di emergenza, ad esempio un incendio che interessa un'abitazione potremmo ricevere telefonate da tutti i vicini e quindi tenere impegnato il personale all'interno della centrale operativa per rispondere alle varie telefonate che ci arrivano. Se il cittadino invece verificando l'applicazione rileva che noi siamo già stati informati e le squadre quindi sono già in partenza potrebbe quindi evitarci l'effetto che avviene a catena nel momento in cui c'è un evento particolare.